Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Quest'oggi vi parlo di Landovio Colorfest, che ho recuperato un paio di giorni fa e che è il numero 46 di questa pubblicazione. Per chi non conoscesse il Colorfest, è un periodico che adesso ha una cadenza trimestrale, perché nasce nel 2007 con una diversa periodicità, era credo annuale e poi semestrale. Comunque adesso è da parecchi anni trimestrale e ha la caratteristica di rappresentare Dylan Dog, quindi tutto il mondo dilaniato, in maniera sperimentale, utilizzando degli autori, che siano essi disegnatori o sceneggiatori, non avvezzi o non appartenenti solitamente al mondo del nostro old boy, anche se non sempre è così. Quindi è una pubblicazione piuttosto particolare che va interpretata per quello che è, perché comunque ha sollevato anche numerose critiche in passato, da me per primo, però poi effettivamente va interpretata in quest'ottica, sotto questo aspetto. E a tal proposito, il numero 46 è dedicato a Groscio. Si chiama Groscio V perché segue altri quattro volumi dedicati in passato al nostro assistente, ossia il Groscio IV che è il numero 42, il Groscio III che è il numero 38, il Groscio II che è questo di qua ed è il numero 34, e infine il più vecchio, Groscio I che è il numero 30. Sono contenute delle storie pubblicate nel caso del nostro assistente già da altre parti, per esempio il Groscionicom che raccoglieva una serie di storie, oppure il segno di Cavazzano che conteneva la prima di questa e anche altre. Però andando per ordine, ho accennato a Cavazzano e infatti, come si vede dalla copertina, è un disegno del maestro veneziano. Infatti le due storie contenute in quest'albo sono la prima, ossia questa di Cavazzano, su soggetto e sceneggiatura di Francesco Artibani e il disegno appunto di Giorgio Cavazzano. La colorazione di Alessia Nocera e il lettering di Marina San Felice. La seconda, invece, è su soggetto, sceneggiatura e disegno e lettering di Dow e la colorazione di Sergio Algozzino. E la copertina, come detto, è del maestro veneziano. Quindi abbiamo due storie, una più lunga e una un po' più breve. Nella prima, insomma, come si evince già, abbiamo un duo di artisti che lavorano per il mondo Disney, quindi per la Panini Comics, ossia Artibani al soggetto e Cavazzano ai disegni. E' interessante, innanzitutto, vedere i disegni del nostro Cavazzano perché permettono di avere una rappresentazione di personaggi reali o realistici quindi che, diciamo, a fattezze umane. Quindi non, diciamo, ci allontaniamo dalla classica rappresentazione di Cavazzano dei topi o dei paperi. Quindi, in questo caso, è già interessante la storia perché tratta dei personaggi reali o comunque realistici, diciamo, umani. Barbara Baraldi, nelle relazionali, accenna un po' un'introduzione a questa storia parlando della cosiddetta teoria del complotto, ossia quando riteniamo che qualcosa non sia andata come ci vogliono far credere ma vi sia tutta un'altra spiegazione. E infatti la storia si basa proprio su, diciamo, una rappresentazione di essa. Brevemente, diciamo che il nostro Dylan Dog viene contattato da un uomo di cinema che vuole dare la possibilità, diciamo, a Dylan e chiede l'autorizzazione per girare un film su di lui in modo da poter ottenere, chiaramente, una pubblicità da esso perché comunque Dylan è un personaggio conosciuto e quindi vorrebbero fare questo film su di lui ma il nostro indagatore dell'incubo sarà arrestio come sempre ma Groucho riuscirà a convincerlo e poi prenderà le redini della storia appunto chiamata Stardust in cui si vede questa tavola, diciamo, centrale, molto bella si vede il tratto di Cavazzano nella rappresentazione, per esempio, di questi personaggi qua in fondo perché anche sul topolino capitava, capita che Cavazzano rappresenti degli esseri umani quindi qui il tratto è assolutamente riconoscibile e quindi questa storia, diciamo, verterà su Groucho che si recherà presso questa casa di produzione nel tentativo di, diciamo, supervisionare la realizzazione di questo film ma in seguito a un delitto si troverà in un'isola chiamata Stardust appunto e lì avrà a che fare con tutta una serie di personaggi reali apparentemente morti in maniera tragica o comunque scomparsi personaggi famosi di cinema e non solo che pare si siano trasferiti lì detto questo non dico nient'altro perché poi la storia va letta diciamo l'incipit è un po' questo comunque l'ho trovata molto bella la storia a parte i disegni di Cavazzano che comunque sono danno quella in più al racconto essendo Cavazzano un autore di primissima categoria e un po' perché comunque scusate il testo di Artibani è molto interessante soprattutto il personaggio di Groscio che poi è il protagonista della storia è rappresentato in maniera direi magnifica le battute che lui fa sono molto divertenti ho riso mentre leggevo l'albo mentre leggevo questa storia veramente ho sorriso ho riso anche con divertimento e poi comunque c'è una bella trama forse ci sono un po' troppi balloon la storia non scorre velocissimamente ci vuole il suo tempo per leggerla però comunque è una storia assolutamente apprezzabile ovviamente non potrebbe essere rappresentata in un Dylan Dog classico perché ha una vena umoristica e i disegni del maestro Cavazzano non sarebbero almeno in questo modo adatti a un Dylan Dog della serie regolare però questo aspetto caricaturale che poi è l'essenza stessa dell'All Boy secondo me è pienamente centrato in questo racconto quindi veramente una bellissima storia tra l'altro come dicevo prima non è inedita ma è stata pubblicata nel volume nel segno di Cavazzano e quindi qualcuno potrebbe già averla credo sia stata edita in un cartonato uscito in look qualche anno fa io non acquisto mai queste storie queste raccolte e quindi per me è stata assolutamente identica quindi storia promossa andando alla seconda invece Groucho all'Inferno è tutto realizzato da Dodo è un artista un autore diciamo contemporaneo abbastanza giovane ha poco più di 40 anni credo e in questa sua rappresentazione sempre in chiave molto umoristica perché trattandosi Groucho secondo me l'umorismo non può mai mancare in sostanza Groucho verrà informato che Dylan è morto e quindi lui vorrà riportarlo in vita sostanzialmente andando a riprendere l'anima del suo capo all'inferno e quindi come un novellodante si farà accompagnare da questo tizio che poi lavora presso la camera mortuaria cui è stato trovato il cadavere di Dylan cui è stato deposto il cadavere di Dylan che è Groucho riconosciuto e quindi in questo giro folle per certi aspetti duro, crudo ma anche molto folle umoristico e macchiettistico presso l'inferno Groucho si recherà per cercare di recuperare questa anima e poi chiaramente ci sarà tutta la storia che poi Valletta è recepita fino in fondo caratteristica interessante di questa seconda storia che mi è piaciuta meno della prima ma sarà anche perché nella prima diciamo ha una chiamo un po' più tradizionale e comunque ci sono gli autori che conosco e chiamo come Artibani o Cavazzano qui l'aspetto secondo me più interessante è la rappresentazione grafica poi va comunque sottolineato che Dofa tutto lui quindi sia i testi che i disegni quindi è ulteriormente apprezzabile però interessanti sono questi disegni molto molto moderni molto attuali da fumettista odierno insomma cioè se io devo pensare nella mia ignoranza perché sono pur sempre soltanto un cultore che conosce qualcosa ma non sono un tecnico che possa spiegare il valore di una tavola però guardandole riconosco che se devo pensare a un fumettista contemporaneo questa è una rappresentazione più che corretta di esso prima di chiudere troviamo qualche tavola in bianco e nero tratte dalle due storie da Stardust con i disegni di Cavazzano le prime due e da Groscia all'Inferno di Doe nelle seconde due nelle ultime due prossimo albo che uscirà l'otto novembre per chi ha una cadenza trimestrale come dicevo conterrà tre storie inedite e complete i vivi e gli altri di Manzo Giordano Barbato Camagni ed Enna Lagnole quindi più tradizionali come autori allora ottimo numero fosse anche solo per la presenza di Cavazzano e i disegni ma c'è tanto altro partire da Artibani e a finire a Doe che fa tutto il resto della storia e nel Colorfest chiaramente sono importanti anche i coloristi non c'era il gozzino in questo caso perché danno un valore in più quindi sicuramente è un albo interessante rientra sempre nell'ottica chiaramente del Colorfest quindi va preso interpretato e capito per quello che è un Colorfest perché se già a prescindere non piace questa idea di questa destrutturazione di Dilan Dog allora vi dico lasciatelo perdere non lo prendete nemmeno non lo tenete in considerazione però all'interno di questo diciamo contestualizzato nel suo ambito corretto è un volume che consiglio costa parecchio 6,90 euro per un albo di 98 pagine come se fosse un normale Dilan Dog però si paga il fatto di avere degli autori particolari importanti e comunque la colorazione che anche quella ha un costo ditemi se l'avete letto e ci vediamo col prossimo video